Stasera, 17 dicembre, presso il Cinetriato alla Provvidenza di Volo della Lucania, sarà presentato in anteprima nazionale il film Commedia Il Maestro più Margherita, prodotto da Film Studio, scritto da Giovanni Laurito per la regia di Gianni Petrizzo. Il lungometraggio è stato girato nel Cilento, è interpretato da Antonio Vita e Antonio Tomeo, con la partecipazione straordinaria di Vittorio Sgarbi. L'uscita in sala è prevista il 9 gennaio 2019 ad Agropoli, per poi uscire nelle sale del Cilento, della provincia di Salerno, nell'Apoletano e nell'Avellinese. Il film, ambientato negli anni 60, racconta di Giacomo, un giovane maestro di Salerno che viene nominato presso una scuola di montagna. Tra momenti romantici, situazioni comiche ed altre commoventi, dovrà confrontarsi con una realtà contadine rurale, molto diversa dalla propria. Grazie anche a Margherita, una ragazza del posto di cui si innamorerà, ma che ben presto dovrà evitare di frequentarla. Il maestro, nonostante la nostalgia della città, apprezzerà la schialtezza dei sentimenti atavici, proprio di una dimensione agreste e non contaminata. Nel contempo, anche i suoi lunipietro e Lorenzo, entrambi in contrasto con se stessi e il territorio che li circonda, vivono le loro esperienze d'amore e di vita con uno sguardo verso il loro futuro. Il film, con ironia e spensieratezza, intende far riflettere sull'importanza dell'appartenenza territoriale e suggerire che i confini sociali possono essere superati solo grazie alla cultura. È stato volutamente girato, come una comedia degli anni 60, in bianco e nero e citando, nello stile di ripresa, alcuni classici come pane, amore e fantasia. Per la maggior parte i dialoghi sono in dialetto cilentano, con l'accento del cilento montano, essendo il film ambientato in un paese immaginato di montagna.